Invece, lei cosa vuole provare? Noi mi parli, vieni con una paletta bianese, con un tipo bianese e una scarpa che è una ricotta che faccio con lei. E' cremosa, non posso andare a scarpe, ma è un sapore molto intenso. Mi faccio prendere questa molto molto piccola, perché sono due sapore importanti, ma non è molto grosso, ma non è molto in bocca. Sono a fondo del maccagno, il maccagno è un altro tipo di nostro bianese, che prende il nome del maccagno da Bessese, per esempio il maccagno è condannato, e viene fatta sotto solo un atto di un ramo in tutta la scuola, che viene a costruire due mongiture, e viene fatta una copertura con due mongiture, che viene a costruire la scuola. Poi, riprendiamo qui con l'olio di nocciola, che io sono un produttore di nocciola di BN, che viene a costruire la scuola di BN, che viene a costruire la scuola di BN, che va a completare, a unire il soccorso del maccagno, quindi l'importanza è delicata, ma c'è l'importanza, come per tutti i nostri clienti. Vieni! Vieni! Questa è la ricetta! Questa è la ricetta! Vieni! Vieni! Questa è il nostro locale,